Di cosa si occupa Data Shredding? Data Shredding, come dice la parola tipicamente inglese, si occupa di distruzione di dati. È una società totalmente italiana che opera su tutto il territorio nazionale che garantisce a aziende di qualsiasi dimensione, grandi o piccole, che possono essere pubblica amministrazione o private, la corretta e sicura distruzione del dato, sia analogico, quindi il cartaceo, che digitale. Quindi un dato che può essere ad esempio memorizzato su un hard disk, su un data cartridge o su un cd. La peculiarità del nostro servizio è che lo facciamo presso il cliente, quindi diamo la possibilità al cliente stesso di vedere il fine vita del documento e quindi sostanzialmente stare tranquillo perché nel momento in cui non si sa che fine ha fatto il documento stesso praticamente non si ha neanche la certezza che possa essere stato distrutto. Il rinvenimento postumo di un documento o un trattamento non corretto potrebbe generare delle pesanti sanzioni dal punto di vista sia amministrativo che conseguenze a livello penale per il titolare del trattamento stesso. Perché la scelta di partecipare al Sanit? Perché da una nostra ricerca il furto di informazioni legato all'ambito sanitario, quindi presso strutture che dovrebbero garantire un livello estremamente elevato di sicurezza perché trattano dei dati sensibili, non solo personali, secondo la legge 196, è in costantemente in tutto il mondo e la corretta distruzione del dato analogico e digitale permette ai studi medici e alle strutture sanitarie pubbliche e private di garantire questa riservatezza fondamentale per il cliente stesso. Il Sanit è una vetrina che ci permette di poter presentare questo servizio innovativo al mondo sanitario e speriamo che possiamo avere dei buoni riscontri.